Ultimo allenamento della settimana alla nave per l'Arezzo che domani svolgerà il comunale, a porte rigorosamente chiuse la rifinitura in vista della sfida con il tutto cuoio. Stefano Sottili ha già sottolineato alcuni aspetti della prossima partita. Il primo, quello più importante, è che sarà il vero banco di prova all'esame di maturità per la formazione a Maranto. Facile trovare le motivazioni per un derby e nella trasferta in casa della capolista Alessandria. Più difficile quando di fronte non è una squadra blasonata come il tutto cuoio, ma in grado di guadagnare in queste prime quattro giornate otto punti segnando sei gol e subendone tre. In Casarezzo potrebbero esserci novità nell'undici titolare. Il modulo resterà il 4-2-3-1 con una sorta di turnover. In difesa Masciangelo e Sabatino si contendono un posto, De Feudis, è in vantaggio su Corradi per un ruolo nella mediana accanto a Foglia che per l'ex capitano del Cesene, giocatore del Lecce, qui varrebbe al debutto dal primo minuto nella stagione. Sulla tre quarti Erpen è in netto vantaggio su Grossi, uscito per un affaticamento ad Alessandria. C'è poi Polidori pronto a subentrare all'occorrenza a capitano Moscardelli, ma anche Muscat che non ha ancora debuttato in Amaranto.